amiche e amici blucerchiati se dico la miglior sampdoria della stagione secondo voi esagero ora mi viene in mente sto pensando ad altre partite ma secondo me questo livello di uso una parola abusata e spesso in modo abbastanza vuoto a livello calcistico ma intensità non l'abbiamo mai vista soprattutto diciamo distribuita in tutti i 93 minuti che si sono giocati a marassi la samp batte la roma 2 a 0 ok prendiamo tutte le attenuanti che poteva avere la roma che arrivava devastata nel fisico nell'organico con gli infortunati e nel morale dalla trasferta tragica di manchester di oltre a ford dove ha preso sei pere dallo united che proverà a rimontare a ritorno e noi insomma ne abbiamo approfittato sfoderando una gran prestazione in crescita nel primo tempo con questa condotta di gara con la pressione costante è stata una masterclass di pressing oserei abuserei anche utilizzerei il termine gag and pressing è comunque di tentativo immediato feroce sempre di recuperare il palone subito non appena lo perdevamo mai tempo per pensare ai giocatori della roma chiaramente era un rischio perché per fare questo la squadra deve stare corta alta e abbiamo giocato con la linea difensiva spesso a metà campo poteva sbloccarla la roma all'inizio non l'ha fatto abbiamo trovato il gol su errore e infortunio diciamo di cumbulla che scivolato ha spalancato la strada a torsby che ha apparecchiato per il suo collega di centrocampo oggi adrian silva che secondo me è protagonista in questo senso perché è molto bravo nell'andare a proporre il pressing quando la squadra perde palla in questo è più bravo di ekdal che oggi invece è partito dalla panchina comunque in mezzo c'è stato pure il rigore parato da udero dopo che ce l'avevamo già portati sul 2 a 0 con yancto quindi iniziamo proprio da udero sette e mezzo sicurezza non ha dovuto fare paratone eccetto il rigore è il secondo che para in stagione è il terzo che para con la samp quindi le sue vittime credo siano farias due stagioni fa quest'anno sanchez e gecko quindi grandi firme per audero sette e mezzo per il portiere beresinski sei e mezzo dalle sue parti gravitava mkhitaryan che è stato l'unico che ha provato a fare qualcosa insieme forse a borca mayoral della roma e quindi era un cliente abbastanza scomodo beresinski ha retto solo una piccola ingenuità secondo me nel fare fallo su mkhitaryan lanciato verso il fondo ma per il resto bene il migliore della difesa secondo me è stato lorenzo tonelli sette per il difesore toscano che ha composto un'ottima coppia centrale con colle coordinati bene si completano molto bene perché sono entrambi comunque veloci ma con caratteristiche diverse tonelli ha giganteggiato sulle palle alte nonostante non sia all'altezza proprio fisica di gecko però come comanda con la voce con la grinta e con la personalità tonelli mi piace veramente tanto e lo ha seguito a ruota collei sei e mezzo perché comunque mi dà sempre un po meno sensazione di sicurezza anche devo anche se devo dire che a livello di palleggio l'ho visto bene oggi abbiamo visto anche la sandoria brava a gestire i momenti della partita mettendosi a palleggiare a fare possesso quando era il caso di farlo e quindi sembrava che il pallone esplodesse meno tra i piedi dei nostri giocatori che fosse un po' meno scottante quando c'era da provare a conservarlo a mantenerlo a rallentare i ritmi a gestirlo lo ha fatto anche soprattutto a Ugello quando il giro palla passava dalle sue parti è quello che tecnicamente più evoluto dei quattro che abbiamo in difesa partita solida anche in fase difensiva anche se qualche piccola incertezza ce l'ha avuta secondo me ma non ha creato danni dopodiché la classica discesa se nel girone d'andata abbiamo imparato ad apprezzarne i cross nel giro di ritorno ormai ci ha abituato spessissimo alla discesa palla al piede col dribbling e stavolta tunnel l'ha fatto a santon quindi molto bene Tommaso Ugello due secondo me oggi non raggiungono la sicurezza la sufficienza pardon giornata lunga sono parecchio stanco ce la farò comunque non raggiungono la sufficienza piena uno è michael damsgard schierato a destra al posto di antonio candreva ha partecipato si è applicato ma gli è mancato il guizzo in fase decisiva e non è stato utile a livello di rifinitura per la squadra nel primo tempo ha fatto un po fatica secondo me a sintonizzarsi sul ritmo della partita che era veramente sembrava un flipper un continuo via vai di palloni vaganti e giocate massimo a due tocchi ma soprattutto a un tocco non grave ma secondo me non brillante la prestazione di damsgard invece ha brillato torsby come detto assist per il gol dell'uno a zero con il recupero e l'assist fatto bene non era difficilissimo bisognava bisognava farlo preciso e lui l'ha fatto addirittura un tacco per cercare di mandare che i tal gol del 3 a 0 alla fine l'ho visto anche molto pulito in regia chiaramente non gli chiediamo il lancio di 60 metri ma ha distribuito il gioco discretamente con i tempi giusti sapendo giocare a 1 e 2 tocchi silva sarebbe da 7 anche lui perché ha comandato le fasi di pressing e l'ha fatto molto bene ha gestito con semplicità ma precisione la regia ha aperto ha stappato la partita in chiusura di primo tempo piccola ingenuità che poteva costare la riapertura della partita sull'episodio del rigore è curioso il fatto che lui sia andato a saltare con le mani dietro la schiena ma quando è partito il pallone il cross aperte e lì è nato il rigore poi parato da audero a gecko ora faccio una cosa che fanno che solitamente quando leggo sulle pagelle sui giornali mi fa infastidisce e cioè da un voto alto a uno che ha fatto gol però gli altro se lo merita spesso lo abbiamo criticato perché è un parecchio insomma un pasticcione col pallone tra i piedi oggi non è stato negativo sotto quell'aspetto la sua corsa è stata inevitabile inevitabilmente utile per fare questo tipo di partita e poi c'è da dire che quando arriva davanti ai portieri spesso fa male e lo ha fatto da oggi servito peraltro quindi young to sette da un assist di valerio verre che fino a lì secondo me stava giocando un'ottima partita a cui mancava però il guizzo però mi stava piacendo perché riusciva a farsi trovare tra le linee in questa posizione oggi abbiamo visto per la prima volta la coppia verre gabbiadini davanti lui faceva quindi la sottopunta che sappiamo essere una una posizione difficile se non sai trovarti gli spazi per ricevere poi se non sei bravo a difendere palla e c'era pochissimo spazio c'era un traffico c'era un ingorgo c'era intasamento da quelle parti lui si spostava sul centro sinistra di solito per andare a ricevere ma ha lavorato bene i palloni gli è mancata la precisione nella rifinitura per gabbiadini che due tre volte ha provato a mandare in porta però la rifinitura la precisione la visione di gioco con gli occhi dietro la testa l'ha avuta per mandare ianto nel buco che si era creato nella difesa della roma in occasione dell'azione che poi ha permesso alla sanitaria di realizzare il 2 a 0 quindi verre 6 e mezzo l'altro che secondo me non raggiunge la sufficienza piena è manolo gabbiadini che si è sbattuto si è dato da fare aveva però intanto fronteggiava una difesa a tre quindi molto coperta e molto compatta centralmente e lui era spesso da solo a meno che non si inserissero i centrocampisti e il suo diretto avversario era smalling che fisicamente se l'è mangiato un po di volte gabbiadini gli ha messo un po di preoccupazione secondo me alla lunga ha verso il duello con il centrale inglese però comunque la sua parte l'ha fatta nella prestazione e nella vittoria della sanitaria sono entrati e direi di dare 6 a tutti perché sono tutti entrati con la testa giusta in un momento in cui ok la partita era già in discesa però bisognava tenerla a quei livelli mentalmente e fisicamente perché la sanitaria non si è mai messa a gestire dal punto di vista tattico abbassandosi ranieri ha continuato a comandare il pressing in avanti fino al novantesimo anche a partita ormai virtualmente chiusa comunque direi 6 a gasto ramirez che è entrato e ha provato a ispirare per il gol del 3 a 0 senza riuscirci è entrato molto bene che ita forse lui anche qualcosa più di 6 perché lui lo ha seguito con un po più di attenzione c'è grande dibattito sul suo essere dentro al progetto c'è chi lo accusa di scarso impegno nella seconda parte della stagione e invece io lo vedo ha fatto un capolavoro secondo me entrando e quando ha rubato un pallone a mkhitaryan quando poi è andato a tirare che ita conclusione deviata calcio d'angolo lì proprio si è visto che è entrato bene perché è andato forte su mkhitaryan che li passava davanti ha messo il piede ha fermato il pallone e si è costruito l'occasione per tentare di fare il 3 a 0 è entrato anche antonio candreva col suo solito campionario di finte contro finte e gestioni del pallone comunque utili in questo caso ecco mi sembra che questi tre siano tutti entrati con la voglia di fare gol loro e va bene e poi è entrato anche e dal per la gestione degli ultimissimi minuti a centrocampo solita pulizia è sempre un piacere vedere trattare il pallone ad alpina dal vinegdal nel a cavallo nella linea di metà campo direi di chiudere con un bellotto a mister ranieri a cui bisogna dare atto dopo tante volte in cui abbiamo avuto da ridire sul modo in cui la san vero si presentava in campo intanto stiamo vedendo un finale di stagione che da tanto tempo non ci capitava di vedere in assenza di motivazioni di obiettivi concreti da inseguire e oggi credo che abbiamo visto ripeto probabilmente una parte ce la mette un po di responsabilità ce la mette una roma sfibrata dall impegno e dalla sconfitta di manchester però abbiamo visto una sampdoria a immagine e somiglianza di ranieri se nel girone d'andata e anche un inizio del girone di ritorno abbiamo visto una specie di ibrido una squadra che riusciva sempre a stare nelle partite ma senza dimostrare esattamente la sua idea di calcio fissa e prolungata per più partite adesso stiamo capendo che con la squadra che sta bene l'idea quella di aggredire alto l'avversario l'abbiamo fatto a san siro col milan facendo un'altra ottima prestazione abbiamo fatto altre volte e quando lo facciamo è una squadra che forse non sarà bella da vedere che però da belle sensazioni cioè oggi non ho sofferto più di tanto perché tra l'altro non ho visto il dato finale del possesso palla ma dopo il primo tempo ne avevamo ce l'aveva più alto la sampdoria anche se non di molto e questo nonostante non facciamo un possesso palla esasperato ma molto verticale quindi bene bravi tutti evviva la sampdoria e bravo claudio ranieri e ai 15 che sono scesi in campo oggi per battere 2 a 0 la roma aspetto i vostri commenti qui sotto e vi ringrazio come dicevano quelli bravi di tutto il calcio minuto per minuto per l'attenzione e l'ascolto ciao